Ciao, sono Svevo, l'autore e attore di Rital, la webserie sugli italiani in Francia. Sono qui perché ci hanno chiesto di fare un video per promuovere la lingua francese. La cosa inizialmente mi ha un po' sorpreso perché noi spesso prendiamo in giro la Francia, la cultura francese, i francesi. Papa mi ha anche riempito d'orgoglio perché in fondo, e vi parlo spontaneamente fuori dal mio personaggio, io amo questo paese che mi ha ospitato, amo la cultura francese, sì, anche la lingua francese. E vi parlo col cuore, veramente. Vi parlo col cuore, veramente. E vi parlo col cuore, veramente. Ah Federico, però, devi cambiare il foglio, sei bloccato questo... parlo col cuore. Ma che andiamo dai, non tocca rifà tutto da capo. Io sono Federico, l'altro attore di Rital. L'incontro con la cultura e con la lingua francese è stato uno spartiacque fondamentale della mia vita. Je suis tombé amoureux immediatamente, e appena ho avuto l'occasione sono venuto a vivere qui a Parigi. D'altronde è come non innamorarsi di Balzac, Flaubert, Maupassant, Hugo, Stendhal, e tantissimi altri. Conoscere il francese ti dà il privilegio di poter leggere parole meravigliose, come queste scritte da Baudelaire. En rouvrant mes yeux, pleins de flammes, je vis l'horreur de Montaudi, e senti, rentrant dans mon âme, la pointe de suci maudit. La pendule aux accents funèbre, sonnai brutalement midi, e le ciel, versé de ténèbres, sur le triste monde, égourdi. Meraviglioso. Toste! Oh, ok.